Sono contento di avere sottoscritto questa convenzione importante tra la Federazione Italiana Agrometristi e l'Istituto del Credito Sportivo, è un qualcosa che dà un segnale di continuità perché comunque era già stata sottoscritta nel precedente quadriennio dalla nostra federazione. Un'opportunità sicuramente sia per la nostra federazione ma anche per il mio territorio, per le nostre associazioni che potranno avere l'opportunità di eventualmente accedere a questo mutuo e poter fare degli investimenti anche a livello locale.